benvenuti a tutti siamo di nuovo qui su money.it oggi siamo qui con libia viganò che è co-founder di factanza che per chi non lo conoscesse ancora è un media che si occupa di fare informazione sui social in questo caso su instagram dove hanno una community fortissima e sono nati nel 2019 ma sono arrivati di numeri incredibili e oggi sono una startup quindi ciao libia e grazie per essere qui con noi a marta grazie a te senti lì io vorrei partire con te con un tema che credo che sia abbastanza rilevante rispetto a quello che fate no perché voi siete su instagram che un social che non era immaginato cioè non si immaginava che instagram diventasse un posto dove fare informazione e non ci si immaginava neanche i tempi che sarebbe stato un posto dove si potesse monetizzare dove le persone si potessero creare un loro lavoro eccetera eccetera quindi ti chiedo cosa vuol dire fare i creators oggi no perché di base su factanza comunque voi create contenuti allora sì assolutamente fare creator oggi vuol dire essere un po' editore di te stesso nel senso che i social ci hanno dato una sorta di democratizzazione di tutto quello che è la produzione dei contenuti la produzione dei contenuti per cui mentre un tempo per avere un pubblico per raggiungere persone con i tuoi contenuti dovevi passare necessariamente da quegli enti più istituzionali che sono le testate giornalistiche oppure le grandi reti televisive adesso come creator ogni persona ha la possibilità di crearsi il proprio pubblico proprio come se fosse un programma tv o diciamo una colonna su un giornale e di decidere in autonomia il proprio piano editoriale e la propria identità sulla base di quello che è il proprio pubblico il target e il messaggio che vuole comunicare per cui mentre un tempo appunto c'era più questo filtro dall'alto verso il basso adesso ogni persona potenzialmente può diventare un creator se ha la capacità di capire qual è il need del proprio pubblico e poi agli strumenti per sviluppare dei contenuti che piacciono che raggiungono tante persone e noi come utenti dei social abbiamo la possibilità di personalizzare completamente quello che sono i contenuti i canali che seguiamo e decidere a quali creator affidarci per informazione e intrattenimento Senti in tutto quello che hai detto ho detto una cosa importante cioè ho detto il messaggio che si vuole comunicare che soprattutto per una media company come la vostra è fondamentale perché c'è anche tanta competizione e si deve comunque trovare qualcosa che ti differenzi in questo appunto dopo che abbiamo detto questo io ti chiedo cosa cercate di trasmettere quotidianamente con i vostri contenuti che ovviamente è importante il messaggio che ci sta dietro Assolutamente noi cerchiamo di promuovere un tipo di informazione che sia inclusiva nel senso che sia accessibile a tutti e quindi vogliamo dare a tutte le persone che ci seguono gli strumenti per farsi un'idea di quello che succede nel mondo e sviluppare un pensiero critico a riguardo senza dare troppo la nostra imposizione ovviamente in modo tale che le persone soprattutto le nuove generazioni a cui ci rivolgiamo abbiano poi gli strumenti per capire come avere anche un impatto sulle cose perché secondo noi il primo passo per avere un'influenza sul mondo che ti circonda è sapere cosa va e cosa non va e se i giovani sono tagliati fuori dal mondo dell'informazione ovviamente questo non possono farlo in alcun modo in secondo luogo noi cerchiamo anche di dare voce a tutte quelle istanze e a quegli argomenti che per le nuove generazioni sono centrali nelle loro vite parliamo di temi come la sostenibilità, la salute mentale, la diversità, l'inclusione che sui media tradizionali occupano sicuramente poco spazio però nel dibattito dei giovani, quindi parliamo generazione Z e millennials sono centrali e quindi noi cerchiamo anche di dare voce a tutte queste tematiche e fare in modo che acquisiscano un ruolo di rilievo all'interno del dibattito pubblico Senti, tu hai detto una cosa secondo me interessante che risponde un po' anche alla seconda domanda che volevo farti che è come è cambiato il modo di fare informazione allora la cosa che a me ha colpito particolarmente di Factanza che secondo me vi differenzia anche c'è un punto di forza rispetto ad altri media similari ai vostri che poi ovviamente non dico che se ci sia competizione spietata non è così però sicuramente c'è una competizione, esiste è quella che voi riuscite in maniera veloce anche ad approfondire le cose e io credo che sia qui diciamo quello che differenzia i social da un media come la televisione o come un giornale cioè il fatto che sui social non si riesce ad approfondire invece voi riuscite a farlo ti chiedo se secondo te è questo il limite dei social e come siete riusciti ad approfondire anche stando su media che in realtà è veloce Sì allora noi abbiamo, cioè ci scontriamo tutti i giorni ogni contenuto che pubblichiamo con questo grosso limite che è sia il limite dello spazio che il limite dell'attenzione per cui sappiamo che le persone quando sono sui social non sono lì per informarsi non è come quando apri un giornale cartaceo e dici ok l'ho aperto e mi sono scusa sul tavolo vuol dire che ho l'input di leggere e di passare del tempo concentrato sui social non è così per cui noi dobbiamo convincere tutti i giorni gli utenti che vale la pena sprecare sprecare per modo di dire parte del loro tempo per approfondire quell'argomento e questo ci mette davanti alla sfida di dire come faccio a far capire a quest'utente che il discorso di Joe Biden oppure un determinato tema oppure questa legge che è passata in Parlamento è importante e quindi la devono approfondire e questo ci porta a sviluppare un tipo di comunicazione che è super accattivante e molto diciamo asciutta nel senso che noi sappiamo che l'attenzione è limitata per cui in quelle cinque slide in quelle dieci slide in cui noi ti parliamo dell'argomento tu dall'inizio fino alla fine devi capire subito qual è il messaggio che noi ti vogliamo passare come mai quel messaggio è importante e quali sono i dati fondamentali per farti un'idea sull'argomento questo ci obbliga a fare uno sforzo di sintesi molto importante che però secondo noi è fondamentale perché alla fine le persone quando sono sui social hanno poco tempo per capire le cose se tu fai giri di parole o se tu dici ti spiego questa cosa e poi non arrivi mai al punto le persone perdono la fiducia nei confronti di te come mezzo di informazione quindi noi tutti i giorni cerchiamo di mantenere una coerenza e mantenere delle strategie che funzionino per gli utenti per invece quanto riguarda la questione dell'approfondimento noi comunque in un nostro post cerchiamo sempre di dare semplificare ma mantenere la complessità delle cose e quindi pensiamo che di fatto non sia vero che sui social non ci sia spazio per l'approfondimento per la qualità certo per alcuni tipi di approfondimento servono altri canali ma per questo esistono ad esempio podcast o esistono ad esempio siti web noi ad esempio abbiamo un sito web con articoli più approfonditi per cui se neanche un podcast serve più spazio esatto il podcast adesso l'abbiamo lanciato settimana scorsa sono sempre delle pillole grazie è un podcast a pillole però in futuro vogliamo sviluppare anche dei podcast di approfondimento per cui sicuramente avremo altri canali poi per approfondire meglio gli argomenti senti hai detto due cose che le persone tendenzialmente non vanno su Instagram per informarsi e che è molto importante il modo in cui comunichi arrivare subito al punto altrimenti perdi fiducia da parte di chi ti segue e diciamo unendo queste due cose un aspetto bello della vostra realtà è che voi avete una community molto fidelizzata perché comunque anche banalmente una persona che guarda un attimo con un po' di attenzione i commenti, le cose vede proprio che ci sono persone che tutti i giorni vi seguono cioè quasi come giornale di fiducia tra virgolette tipo il corriere il mio nonno tipo che lo compra tutti i giorni e Factanza è questo per una persona più giovane quindi cosa vuol dire community per te per voi e come siete arrivati a fidelizzare gli utenti in una maniera così così importante che per un media come il vostro non è affatto facile per i motivi che hai detto tu allora prima di tutto noi abbiamo cercato di creare delle abitudini nelle persone che ci seguono per cui ad esempio da quando è nata Factanza noi facciamo tutte le mattine una rassegna stampa o nelle storie o nei post a seconda di quanto siano importanti le notizie e le persone sanno che in cinque minuti che si leggono la nostra rassegna stampa al nostro post o ascoltano adesso il nostro podcast di notizie mattutine hanno una visione di quelle notizie imprescindibili per cui sanno che noi facciamo per loro questo lavoro di selezione e nel tempo si sono abituate a informarsi così in secondo luogo abbiamo sempre mantenuto dei rigidi standard qualitativi per cui abbiamo sempre cercato di non deludere le persone soprattutto nei momenti in cui serviva più qualità da parte dell'informazione e in cui i media tradizionali si sono un po' lasciati andare o nel clickbait o nella disinformazione o portando i pareri di persone che non facevano veramente informazione e quindi in quei momenti noi abbiamo saputo come distinguerci e questo ci ha portato veramente un altissimo tasso di fiducia da parte dei nostri utenti mi riferisco ad esempio alla pandemia ai vaccini alla guerra tantissime persone in questi momenti in cui c'era un caos mediatico incredibile hanno ritrovato in factanza il media che diceva informazioni in maniera oggettiva basandosi sulla scienza basandosi su dati sui fatti e in questo modo si sono sentiti meglio si sono sentiti sollevati hanno avuto la percezione di una maggiore chiarezza rispetto a quello che stava succedendo e questo ci ha portato a creare una community super affezionata che appunto ci prende come punto di riferimento quindi diciamo al netto di tutto ciò che mi hai detto immagino diciamo che comunque ci sia un progetto di sviluppo poi ovviamente considerando il fatto che i social cambiano in fretta quindi magari non so tra cinque anni esce qualcosa che nessuno conosce e ovviamente è impossibile prevederlo ma tu com'è che ti immagini lo sviluppo di factanza da qui a cinque anni allora factanza è una media company per cui è un'azienda che produce contenuti su varie piattaforme in questo momento il nostro social principale è instagram anche se stiamo sviluppando anche il canale tiktok quello che noi vogliamo diventare in futuro è al di là di quali saranno poi i social come dicevi su cui ci troveremo magari saremo nel metàverso tra cinque anni e quindi saranno gli avatar che leggo il giornale di factanza lì il nostro obiettivo è quello di diventare un punto di riferimento per le nuove generazioni diciamo portando avanti un modello basato sulla qualità e su valori positivi cercando anche di dare la solidità economica e commerciale a questo modello per fare sì che diciamo non cada poi in quelle dinamiche clickbait che hanno portato un po' la qualità dei media tradizionali a cadere a diminuire e il nostro obiettivo appunto è fare in modo che i giovani si riavvicinino al mondo dell'informazione capiscano qual è la sua funzione sociale e capiscano grazie a tutto quello che noi comunichiamo quotidianamente come avere un impatto positivo sul mondo e agire sulle cose che ci sono da cambiare senti hai parlato di impatto positivo quindi qui diciamo arriviamo all'ultima domanda che è l'ultima cosa che volevo affrontare con te che mi sembra di capire che un po' a parte ovviamente l'ambizione che questa diventi immagino un'azienda importante anche in futuro perché è ovvio c'è anche quell'aspetto lì voi siete anche molto motivati da un ideale che è quello penso un mondo più giusto penso anche un'informazione più corretta e quindi tu sei entrata in questo mondo credo spinta da un ideale cioè ipotizzo io poi non so se sia così quindi ti chiedo che consigli dai a una ragazza o a un ragazzo che non necessariamente vuole fare informazione ma in generale vuole cimentarsi in qualcosa vuole provare a creare una sua realtà cos'è che gli consigli? allora secondo me in questo mondo in questo momento storico i giovani hanno un sacco di opportunità grazie al digitale che un tempo non c'erano perché come ho detto all'inizio ognuno può essere editore di se stesso ognuno può creare contenuti e raggiungere un pubblico che un tempo era impensabile per cui io consiglio a tutti di iniziare a diciamo sviluppare grazie ai mezzi che ci offre il digitale la realtà il profilo insomma a seconda del del caso che loro cioè che questa persona vuole vuole sviluppare poi può finire bene può finire male in realtà adesso le aziende e in generale chi deve investire in un giovane vuole vedere molto il suo diciamo personal brand per cui vedere che una persona investito tanto in un progetto con gli strumenti che ha qualsiasi essi siano è già qualcosa che viene valorizzato e che viene visto in maniera iperpositiva perché è segnale di motivazione e di proattività per cui secondo me è importantissimo fare qualcosa con questi strumenti che abbiamo a disposizione che non sono non ci sono delle barriere all'ingresso per quanto riguarda il mondo digitale importanti quanto c'erano un tempo per cui io consiglio di iniziare per imparare fare pratica poi se quello sarà il futuro il suo lavoro una realtà che si concretizzerà come è stato per noi o non lo sarà comunque si imparano in questo modo molte più cose rispetto a farle magari per qualcun altro o iniziare direttamente con un'esperienza indiretta sono perfettamente d'accordo e anche una cosa che vabbè non dico che aggiungo ma che immagino anche che voi abbiate fatto è quella anche magari di non ascoltare gli altri perché comunque magari l'atto credo che sia anche quello molto importante ti ringrazio davvero tanto per essere stata con noi grazie grazie a te grazie a te